giochi sul nostro podcast il podcast ludico bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast ormai avete preso l'abitudine ci trovate sempre tutti giovedì quindi anche oggi eccoci qua con me come sempre luca bene ragazzi bentornati sono molto carico stasera per questa bella puntata perché perché hai trovato un nuovo nuovo sponsor perché ho trovato un nuovo sponsor e grazie a questo sponsor abbiamo anche questa sera un super ospite che ci ha costato veramente big money a stasera ci siamo svenati però tutto coperto dallo sponsor speriamo che ne sia valsa la pena sì sono sicuro che sarà valsa la pena anche perché voi dovete sapere che questo ospite quando ha visto che abbiamo fatto il calendario ludico dell'avvento a natale mi ha fatto i complimenti personalmente quindi assolutamente è secondo me uno dei migliori game designer che esistono proprio al mondo e di chi staremo mai parlando di chi stiamo parlando presentarlo tu matte ma aspetta prima di presentarlo direi di visto che c'è qualcuno c'è uno sponsor che ci ha finanziato per riuscire a portare una celebrità di questo tipo direi che allora bisogna giustamente portare però far presente chi è lo sponsor va bene allora dai lanciamo la pubblicità vai vai pensi di essere troppo vecchio per giocare e invece no vecchiacci la casa di riposo dove puoi giocare tutto il giorno a decriù e a calico senza che nessuno ti disturbi grazie vecchiacci allora perché grazie alla tua pubblicità questa sera qui con noi c'è silvano sorrentino ciao matteo ciao luca ciao a tutti benvenuto benvenuto vi parlo direttamente dalla mia stanza alla vecchiacci perché ho scelto di convertire i big mani in una stanza visto che ormai c'è un'età anch'io come 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 autore sei una sei un appassionato anche tu di the crew e calico beh sì the crew sì calico non ho ancora provato ma io sono proprio un controestimatore di the crew e l'ho ribattezzato come un 60 più e quindi da qui la pubblicità però ti dico che il motivo per cui mi piace the crew è che a me piacciono la maggior parte dei giochi in cui c'è un puzzle nascosto visto che in quel gioco ci sono dei puzzle nascosti allora è proprio mio genere ok cosa dobbiamo perdonarli tutti anche anche la volta scorsa quando è venuto berardi gli piaceva the crew è una battaglia contro i mulini a vento la mia o ha pure vinto il il kenner spiel giusto sì sì poi i giochi che sono big mani come immaginerai piacciono anche a noi game designer invidia beh giustamente beh comunque tu non ti staresti potuto permettere la camera da da vecchiacci se non avessi avuto i big mani grazie magari a vabbè la tua serie più importante è the escape sì quindi dai un po di invidia ma relativa stiamo già anticipando troppe cose in realtà perché probabilmente la maggior parte di chi ci ascolta già ti conosce anche solo di nome perché comunque sei nell'ambiente già da parecchio tempo e visto che tu sei uno di quei pochi siete una sorta di elite di persone che hanno sono riusciti a trasformare la propria passione in un lavoro e la domanda sorge spontanea come cavolo ci sei riuscito perché è una cosa che vorremmo sapere un po tutti perché è un po il sogno di tutti noi ma soprattutto la domanda è tu come fai già a saperlo perché io teoricamente fine per i prossimi due mesi ho ancora un altro lavoro ma in realtà mi sono dimesso e dal primo anno sarò un autore a tempo pieno perché nonostante sia con da vinci da 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 vent'anni in realtà il mio lavoro principale finora non era fare il designer per da vinci ok tutto quello che ho fatto era soltanto lobby figurati quando sarà il mio lavoro quindi aumenterai la tua produzione esatto esattamente sì 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 per come sono entrato in questo mondo la storia è abbastanza lunga ve la riassumo sostanzialmente vabbè a parte che la maggior parte degli autori di giochi in realtà scrive giochi già da quando è piccolo e scrive giochi nel senso che prende un gioco che più o meno gli piace o un gioco che ha visto a casa del cugino ma i genitori non li hanno comprato e decide di ricrearselo in casa e quindi sono ho trovato l'altro giorno che mettevo in ordine in casa mia degli scatoloni pieni di giochi che scrivevo quando la mia età non aveva neanche due cifre tra i quali peraltro ho trovato anche tipo il prototipissimo di detective avevo scritto un gioco giallo e neanche me lo ricordavo detto ciò il vero il vero punto di svolta che ha segnato l'inizio della mia carriera di autore alla lunga è stata l'uscita in edicola di una rivista che probabilmente conoscete anche voi nel 1998 se mi ricordo bene nel millennio scorso che era giocarea che era la rivista di giochi da tavolo sorella di caos e power caos che una rivista precedente che invece parlava di giochi di ruolo sì e mentre fino a quel momento io di giochi da tavolo sì avevo visti qualcuno avevo sentito parlare qualche amico aveva qualche cosa si trovava qualcosa in negozio giocare è stata la prima rivista che ha iniziato a introdurmi al gioco da tavolo moderno da lì in poi peraltro dopo pochi mesi escono giochini da niente tipo coloni di katan per esempio che è il primo gioco moderno che mi ricordo di aver acquistato e da lì visto che io ero comunque giovane ma abbastanza bravo nello scrivere giochi avevo anche già collaborato questo non lo sa praticamente nessuna avevo collaborato per una trasmissione televisiva di una rete locale qui di Bari andiamo subito a cercare l'imbarazzante diretta per anni e so che non si trova niente una trasmissione in cui c'erano due scolaresche che si sfidavano in vari giochi e io e un amico all'epoca scrivevamo lui presentava e scrivevamo insieme i giochi e i testi di questa trasmissione quindi avevo già lavorato in un ambito professionale nonostante fossi stato molto giovane e quindi quando è uscito a giocare io mi sono subito proposto mandando articoli e mandando giochi perché loro pubblicavano anche dei giochi all'interno della rivista tipo il paginone centrale invece di esserci la modella desnuda c'era una cosa che per me era ancora più eccitante un intero gioco al tavolo bellissimo e subito ho iniziato a collaborare con loro anche perché poi conoscendo le persone che c'erano dietro Domenico Di Giorgio, Andrea Angiolino un sacco di gente che tuttora è sulla cresta dell'onda ci siamo trovati subito bene perché veramente tante bravi persone nel frattempo ho continuato a scrivere giochi sia per dv sia come autore freelance per altri editori pubblicando di tanto in tanto qualche cosa per Adlung, per un editore giapponese, Game Store Banesto che ha pubblicato un mio gioco di carte fra i primi giochi di Da Vinci sono dei giochi miei Dancing Dice e Ostragon che penso che siano rarissimi al momento non hanno avuto molte ristampe però sono state una bella palestra per me e man mano ho iniziato innanzitutto a studiarmi in una libreria intera Billy di libri di game design per capire meglio questo mondo a giocare di tutto perché le altre due librerie Billy sono piene di scatole di giochi ne ho circa un migliaio e man mano... dentro due Billy, cioè come fai? no, due pareti di Billy ah ok e nel frattempo in contemporanea racconta anche questo perché entra a far parte del motivo per cui è nata Dexcape verso gli inizi del secolo non mi ricordo data precisa ma ho 2002-2003 eccetera ho iniziato anche a propormi come autore enigmistico ok per varie riviste la prima 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 proprio partendo dal classico ho spedito dei giochi alla settimana enigmistica giusto per vedere che cosa succede se veramente li pubblicano o se sono cinque persone in un tinello che fanno tutto e mettono a far parte di diversi no, no, veramente almeno all'epoca potevi spedire qualcosa allora ti rispondevano e pubblicavano i giochi poi ho iniziato a scrivere dei gialli polizieschi illustrati sai quelli di una pagina che stanno anche su Asittà Enigmistica per esempio per una rivista di enigmistica che si chiamava Corriere Enigmistica proprio la rivista di enigmistica del Corriere ok e per un anno un giallo a settimana quindi 52 gialli illustrati da un fumettista barese Benny Gemma, molto bravo e quindi mi sono fatto ho fatto vera su questo genere di gialli lavorando lì poi da lì mi sono creato un mio stile perché un po' mi annoio a cercare di creare schemi per giochi esistenti quindi la mia carta obiettivo dice di contattare riviste varie che ho pubblicato ora pubblico tipo su Focus su Supergioco che è una rivista di Focus per bambini su me consulte magazine faccio pubblicità guarda la mia figlia che va matta poi vabbè mi ho messo altri nel Palmares di riviste Wild eccetera eccetera e ogni volta appunto proponendo dei giochi come dire sartoriali creati per quel tipo di rivista sulle loro richieste col vantaggio che nessuno poteva confrontare i miei giochi con quelli di nessun altro perché erano giochi maisti e quindi riuscivo quasi sempre a mettere il piede nella porta e a pubblicare qualcosa gli anni migliori sono stati quelli in cui è esistita una rivista bellissima che si chiama Focus Brain Trainer uh sì me la ricordo dove peraltro c'erano anche altri famosissimi autori di giochi italiani tipo Francesco Berardi o Venturini o Francesco Rotta va bene questo riassume neanche tanto brevemente quindi qualcuno si sarà già annoiato si era andato a buttare su un campari di là quello che ho fatto ma solo per dire che in questi vent'anni ho lavorato in parallelo sui giochi linguistici e sui giochi da tavolo nonché sperimentando ogni tanto su altre cose tipo videogiochi librogiochi eccetera giusto per tenermi informato un po' su tutto quindi scusa Silvano già io mi sono un po' mezzo addormentato ma soprattutto cioè non ti credo che c'è tutto questo lavoro dietro all'essere autore perché io ho visto benissimo che c'è gente che su Facebook tira fuori un gioco cioè in dieci giorni boom dal niente senza aver mai fatto niente prima e poi lo mette su Kickstarter e diventa super ricco eh sì è vero succede esattamente così in realtà è assolutamente vero che tu in dieci giorni puoi anche inventare un gioco questo è assolutamente vero e puoi anche provare a venderlo il problema è la differenza fra inventori e game designer perché i game designer sono le persone come me che una volta che hanno inventato il gioco che è la cosa divertente da fare entusiasmante lo fai vedere le prime volte vedi che funziona eccetera lì sei arrivato tipo al 30% del lavoro e poi c'è un 70% di lavoro noioso perché è veramente lavoro quello vabbè dico noioso tra virgolette perché comunque io non mi sono mai veramente annoiato lavorando i giochi però è un momento in cui tu già vorresti passare l'idea dopo però in realtà devi stare lì a rifinire a cesellare ad aggiustare a capire anche come il gioco va va illustrato va creato va prodotto parlando con tutte le altre varie figure cercando di ottenere qualcosa che oltre ad essere un bel gioco che tu hai inventato come inventore è anche un bel prodotto che è il tuo lavoro come game designer ma secondo te questo un po' proliferare di questi autori un po' diciamo li dico io improvvisati e anche così con la possibilità magari di fare questi growth funding le possibilità che ci sono comunque sui social di promuoversi magari si riesce anche effettivamente a pubblicare un gioco così cosa me lo vedi per il settore cioè impoverisce un po' il vostro lavoro cioè di voi che lo fate veramente seriamente oppure invece è un'opportunità perché poi si vede una differenza e la gente se ne accorge hai dato due opzioni negative ma in realtà io la vedo come una cosa naturale che esiste in quasi tutti gli altri campi artistici no? se vai in libreria trovi i primi 500 libri degli autori grossi e poi se vai in un angolino nascosto impolverato con le ragnatele trovi anche il libricino di quello che se l'è pubblicato autoprodotto oppure è andato a una piccola casa editrice locale ha stampato il suo libro lui è contentissimo chi lo compra magari è anche contento e sono contenti tutti non non ricaverà i big money pure lui però il suo sogno nel suo piccolo l'ha completato anche io quando spedivo i primi giochi a giocare o a adlungspiele che tu sai fa questi giochini di carte minuscoli e mi hanno pubblicato quelli ero contentissimo e avrei quasi pensato vabbè ormai questa cosa l'ho fatta mi posso fermare qui sono contento quindi dipende da cosa vuoi fare nella vita però ci sono anche scusami ma ci sono anche delle per chi invece vuole provare non basandosi solo su il suo gruppetto diciamo di amici di tester eccetera ci sono anche delle degli eventi ben specializzati ah questo assolutamente infatti la domanda a cui rispondevo è se danno fastidio gli autori che cercano la produzione e la risposta è assolutamente no sono contenti loro e sono contenti a volte quelli che acquistano i loro giochi sottolineo a volte perché effettivamente uno dei vantaggi migliori di avere un editore che sceglie di pubblicare il tuo gioco è che l'editore non può parlare alla cieca quindi ha bisogno di assicurarsi che il gioco sia perlomeno vendibile e perlomeno funzionante e quindi si assicura che il gioco sia editato bene esca in una forma migliore di quella in cui a volte arriva come prototipo mentre chi sia autopubblica o che fa quei tentativi un po' azzardati a volte questo passaggio un po' lo salta e questo è il vero problema però effettivamente esistono varie possibilità per un autore un po' più scafato per iniziare a entrare col piede giusto aspetta col piede giusto sembra dire che l'altro è un piede sbagliato diciamo entrare con più invenzione in questo mondo da realtà tipo idea G che io quando posso molto poco perché sono a Bari quindi non sempre riesco a andare a quelle più grosse che sono un po' più al nord ma seguo sempre ed è interessantissimo non so se ci saremmo stati sono sostanzialmente degli incontri in cui autori possono mostrarsi a vicenda i propri prototipi e nel contempo alcuni editor e scout di casi difficili girano fra i tavoli di nascosto lo fanno sono incognito no 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 tu sai tu sai chi sono e vedono se qualcosa è interessante si siedono iniziano a provare eccetera io me li immaginavo tipo un po' mascherati si muovevano di soppiato e appesi al muro mascherati tipo e poi si si vedevano un gioco ma noi iniziavano a fare delle offerte nascoste che hanno capito che ti trovavi non so un salame diceva questo qua un salame da parte di i giochi poi un altro portava non so i taralli e c'era tutto questo me la sono immaginata così più o meno è un po' un po' meno losco però sì è un po' no ma devi sapere che lui è nato e cresciuto grazie alle atmosfere di Totopoli quindi scommesse sui cavalli eccetera eccetera lui ha questo feedback anzi scusa ha questo background culturale quindi lui vede cose losche un po' ovunque ma se non sbaglio stava anche facendo una raccolta firme per distampare Totopoli se vuole metto la io ecco bravo sì sì assolutamente con la tua firma scommetto che faremo il botto se qualcuno è interessato all'evento di IdeaG il modo più facile per seguirlo è andare su Facebook e cercare Inventori di Giochi che è la comunità che poi organizza IdeaG c'è anche un bel sito dove ci sono tantissimi articoli scritti da autori italiani per lo più e qualche traduzione di articoli esteri relativi al game design tutti molto ben centrati ed è veramente la risorsa migliore che c'è in Italia in questo momento per i game designer che non vogliono spendere il sito di Inventori di Giochi per iniziare a leggere belle cose ma infatti è anche quello che ogni tanto consiglio quando qualcuno arriva a chiedere un consiglio un parere io cerco sempre di indirizzarli verso questi eventi o nel caso in cui perché non credo che anche quest'anno probabilmente eventi ne vedremo ben pochi cerco comunque di indirizzarli verso diciamo le loro pagine social o comunque eventi telematici perché a volte succede anche di farlo di far qualcosa anche via via internet sì poi una volta che qualcuno ha il suo gioco pronto un paio di tipo libro gioco no? un mio gioco pronto che faccio a questo punto puoi fare o pagina 57 provare a contattare una rivista che è la strada che ho fatto io di riviste in Italia in questo momento non c'è niente però c'è io gioco che è una bella rivista anche se comunque c'ha già un suo congruo numero di collaboratori sì e soprattutto sbaglio volevo dirlo fin dall'inizio è un po' una versione degli anni 2020 diciamo eravamo un po' lì fine 2010 inizio 2020 di quella che effettivamente era giocare sì e no perché io gioco mi sembra più indirizzata verso recensioni e giochi all'interno giocare la cosa che mi piaceva era che avevo una sua sezione di recensioni però poi aveva ogni pagina qualcosa di inaspettato che era un po' il pregio e il difetto della rivista perché magari trovavi cose che non ti interessavano proprio però trovavi veramente qualsiasi cosa dagli articoli sui giochi di parole nelle canzoni di Elio Stretese articoli di storia legata alla storia del gioco antico strategie per la welle eccetera quindi mi piaceva questa sua libertà anche se effettivamente aveva molte meno recensioni quello gioco ha un grande difetto che non ha mie recensioni questo è un hai provato a scrivere o ti hanno ti hanno bannato no no non ho provato aspetto che siano loro a chiamare hai ragione bravo tiratela un pochino sì mi hai visto Cristiano Ronaldo andare al crottone a dire vengo a giocare per voi è andato a Sanremo allora scusa Cristiano Ronaldo ho sbagliato il giocatore esatto era Ibra e no però io vedo che anche un pochino cioè io da un certo punto di vista apprezzo comunque il coraggio di una rivista che nonostante tutto il mondo sta andando verso il digitale loro restano comunque anzi nascono come analogico per un mondo che fondamentalmente è completamente analogico o quasi e quindi giustissimo però è una scelta sicuramente coraggiosa quella di di una rivista di questo tipo che può essere quella di Io Gioco come a suo tempo era quella di Focus Brain Trainer eccetera io vedo tante cose che ormai vengono date praticamente per scontate come digitali guarda io sono sono io compro Io Gioco sono abbonato a Spielbox compro un sacco di riviste ancora quindi sono la persona meno indicata per parlare però l'impressione che nel mio caso almeno il fatto che una recensione o un articolo sia su una rivista cartacea non me ne vogliate voi comunque mi dà un senso più di autorevolezza o almeno mi la fa ricordare meglio io mi ricordo quasi tutte le le recensioni che ho letto su Spielbox e non mi ricordo gli articoli che ho letto oggi su su internet perché su internet ci navichi quando sei a lavoro mentre fai finta di lavorare una bella rivista in bagno sai com'è tici con centri meglio no però mi piace poter leggere e rileggere difficilmente poi vado a ricercare un articolo che avevo già letto mentre c'è la rivista magari mi ricapita però io sono un uomo del millennio scorso quindi ma guarda stai parlando con altri due del millennio scorso non siamo così giovini come potremmo magari sembrare ma non lo siamo parla per te parla non parlare anche a mio nome ricordo che vi chiamo dalla Vecchiacci esatto esatto Vecchiacci probabilmente adesso farà un accordo con io gioco magari per mettere una pagina prende la doppia pagina centrale magari c'è qualche game designer che farà un gioco print and play sulla Vecchiacci dove devi gestire gli anziani nella casa di riposo no però a me piace perché comunque è un modo diverso per andare a prendere un target completamente diverso di potenziali giocatori perché secondo me siamo tutti potenziali giocatori perché io sono sempre stato convinto che ognuno c'è un gioco adatto a ciascuno di noi ce ne sono talmente tanti io sono straconvinto che non può esserci una persona che no guai mi fanno schifo tutti i giochi è impossibile cioè l'importante secondo me è provare e per provare ovviamente devi avere quel piede di porco che si chiama informazione e un minimo di iniziativa grazie a appunto riviste diffusione ludica i negozi cioè ci sono ormai siamo veramente in un contesto che credo che chiunque possa tranquillamente comprare un gioco e goderselo tu dici siamo tutti potenziali giocatori io dico addirittura di più siamo tutti i giocatori perché chiunque di noi magari dice no a me i giochi da tavola non interessa o non li conoscono poi vedi che c'hanno sul cellulare dico Candy Crush solo per dire un titolo che tutti conoscono anche tra i più recenti o puoi aprire il giornale e fare il sudoku eccetera quindi sta comunque facendo dei giochi si 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 gioca alla playstation eccetera per me non c'è molta differenza tra i vari tipi di giochi se stai giocando a un gioco vuol dire che i giochi in generale ti piacciono e quasi tutti giocano ai giochi quindi a tutti i giochi potenzialmente piacciono l'importante è trovare effettivamente qualcuno un negozio un blog una rivista un amico un amico che gli metta sotto il naso il gioco giusto giusto il problema il problema è che di Totopoli non si trovano più tante copie quindi mentre il gioco giusto quando il topo è sparito dal mercato sono diminuiti i giocatori quello è chiaro è vero allora Luca potresti pensare di proporre una nuova edizione di Totopoli a DV giochi non so se possono acquistare la licenza tut 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 comunque la rivista era mi sembra l'opzione pagina 56 ma un'altra opzione buona per gli autori di Giochinera visto che era quella la domanda vedi come mi ricollego mamma mia che ho credo che sia pagina 112 partecipare a un concorso per autori sì nel mondo ce ne sono tanti in Italia ce ne sono almeno due importanti me ne vengono in mente qualcuno mi scuserà se mi sfuggono gli altri e faccio il bravo nomino primo prima quello della concorrenza che è il premio archimede di studio giochi perché è un premio importante che esiste da tanti anni e ha portato a tanti giochi interessanti sul mercato che accetta giochi di qualsiasi tipo quindi non ha vincoli sul tipo di gioco non vorrei dire scemenze perché non sono sicuro di essere informatissimo ma credo che tuttora si tenga ogni due anni abbia una quota di partecipazione e hai la certezza di avere nel peggiore dei casi un feedback sul gioco che hai fornito nel migliore dei casi finisce in una serie di giochi che vengono poi mostrati ad altri editori e comunque sono stati mostrati anche a studio giochi che è un editore grosso quindi se un gioco poi è bello sicuramente trova la sua strada sì io ho visto passare da lì diversi diversi titoli che poi sono effettivamente finiti sugli scaffali dei negozi e quindi sì concordo pienamente un altro concorso questo invece è legato a dv giochi sponsorizzato da è un concorso di Luca Comis & Games in cui dv giochi è partner per la creazione del gioco ed è il gioco inedito che è un concorso che diciamo serve anche da palestra per gli autori di giochi perché al contrario per l'archimedia in realtà ti dà due vincoli forti il primo che è un concorso per giochi di carte inizialmente era soltanto per il doppio mazzo standard da 110 carte invece da qualche anno c'è un po' più di varietà se necessario quindi puoi anche fare mazzo singolo e metterci alcuni pezzetti standard da di pedine quello che c'è nel bando e poi ogni anno ha un tema tema che tipo l'anno scorso era il cioccolato perché c'era anche una partnership con l'Eurochocolate a Perugia dove c'è la sede a Da Vinci guarda caso esatto l'anno prima era Leonardo perché c'era una diversa importante quest'anno addirittura c'è una partnership con la collezione di arte contemporanea della Farnesina quindi chi ha partecipato quest'anno la scadenza era proprio qualche giorno fa quindi ormai è tardi mi spiace amici ascoltatori ha potuto creare un gioco e volendo ha potuto anche usare sulle carte del gioco le foto delle opere d'arte della Farnesina quindi sono venuti fuori tanti giochi interessanti che stiamo guardando in questi giorni con la giuria del gioco inedito e da questo concorso non dico che sono nati perché alcuni hanno partecipato mentre già avevano preso altre strade parallele però ha ospitato tanti autori che oggi sono notissimi da Paolo Mori a Walter Robert da Zucchini in poi quindi anche questa è una palestra importante anche perché comunque ti mette in contatto poi con la casa editrice Da Vinci per sviluppare il gioco che ha vinto quindi capisci anche come trasformare appunto il gioco in un gioco più vendibile e comunque anche qui chi vuole ricevere dei feedback poi può contattare la giuria e ottenere consigli e suggerimenti ok la partecipazione è gratis questo lo dico perché è importante soprattutto per diffondere la voglia di partecipare perché è giusto anche per dare un'altra indicazione quando è più o meno l'inizio del bando in cui viene pubblicato così almeno uno sa di che tema si tratta e tutto allora guarda questa volta mi cogli impreparato solo perché a causa degli ultimi recenti eventi si sono accavallati due giochi inediti che sono stati con una tempistica più ridotta del solito ok quindi mentre tipo negli scorsi negli scorsi tre anni sono usciti tre giochi in questi due anni comunque ne usciranno tre durante l'estate verrà programmato il vincitore dell'attuale bando quello della della farnesina e in genere subito dopo viene viene fornito il bando e il tema del concorso dopo l'unica cosa che non so è la scadenza del concorso dopo in questo momento mi sfugge ma credo che sia la prossima lucca cioè non quella di che ci potrebbe eventualmente essere quest'anno ma lucca dell'anno prossimo dovrebbe essere 2022 sì ok questa volta c'è tempo l'ultimo che c'è stato è quello con meno tempo perché quello che si è trovato compresso proprio per creare un gioco in più va bene adesso Silvano terminiamo un po' questa parte approfittando del fatto che dobbiamo dare una linea al TG ludico col buon Kogo e poi torniamo e parliamo un po' di Escape Room che sono il mio gioco preferito e quindi non posso esimermi già so che ci sei te di parlare anche un po' di Deckscape e dell'Escope Room in generale quindi va bene adesso vai Kogo col TG ludico ciao e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il TG ludico di giochi sul nostro podcast comincio subito ricordandovi che a partire da questa settimana è disponibile la localizzazione italiana a cura di Cranio Creation delle rovine perdute di Arnac inoltre sempre per la casa del Teschio saranno in uscita nei prossimi giorni un mucchio di succose novità sia per i giocatori più giovani che per i più grandi ed esperti stiamo infatti parlando dei seguenti titoli la casetta di Topolini Candy Crash Duel e la sua versione Pocket Sock Monster Codex Naturalis Marajah e Scheme Room due giocatori horror Mystery House la base abbandonata e le due attese espansioni di Nemesis Void Cedars e Carnomorph Studio Supernova invece annuncia un altro colpaccio si tratta della localizzazione di Inis di Christian Martinez pluripremiato titolo di controllo aria senza l'utilizzo dei dati ambientato nella cultura celtica l'uscita è prevista per la seconda metà dell'anno e includerà la prima espansione del gioco che tra le altre cose aggiunge un quinto giocatore Giochi Uniti ha messo a disposizione di tutti i fan di Lettre The Whitechapel una nuova regola opzionale per arricchire l'esperienza di gioco di questo classico la nuova regola rilasciata in occasione del lancio del gruppo Facebook ufficiale del gioco è liberamente scaricabile dal sito dell'editore italiano il designer Andrea Mezzotero ha debuttato nel 2018 con il gioco di carte Crystal Clans di Played Hat Games un gioco di battaglie per due giocatori che conta una mezza dozzina di espansioni che però non sono mai state localizzate in Italia per il 2021 l'autore italiano ha in uscita un nuovo gioco di carte ma decisamente diverso stiamo parlando di Day and Night per l'editore austriaco Piatnik un titolo per 3-5 giocatori fatto di selezione simultanea delle azioni lo vedremo anche nella nostra penisola WizKids ha annunciato entro questo mese un nuovo gioco di piazzamento lavoratori e controllo aree ambientato in Giappone Jinja è ideato da Kevin Crosby al suo primo progetto pubblicato e Corey Goff con l'artwork di Lamaro Schmidt il gioco è per 2-5 giocatori dei 12 anni in su per circa un'ora a partita diamo come al solito un'occhiata a cosa succede sul fronte Kickstarter l'editore Monolith ha presentato una reimplementazione del suo bestsellers Mythic Battles Pantheon del 2017 mi riferisco a Mythic Battles Ragnarok in cui prenderemo il controllo delle divinità nordiche nel conflitto finale mentre strane rune di fuoco si materializzano nei nove mondi un gioco di miniature e battaglie card driven che mescola diverse meccaniche e in cui non mancheranno i lanci di dadi per 2-4 giocatori che si sfideranno per circa 90 minuti in due diverse possibili modalità di gioco e numerosi scenari la Shieldmill Games invece è impegnata in una campagna che interesserà tutti i fan di Martin Wallace perché porterà nelle case dei suoi sostenitori Australia Big Box insieme a due nuove espansioni del gioco Revenge of the Old Ones e Tasmania per finire vi segnalo la campagna di Pillars of Creation specializzata nella pubblicazione di giochi che presentano temi che ruotano attorno ai miti di tutto il mondo e alla storia umana nell'attuale campagna sono due i titoli che si possono sostenere Solani un gioco astratto di piazzamento tessere per uno o quattro giocatori in cui assembleremo delle costellazioni un puzzle game con diversi gimmick molto interessanti che prende spunto da un mito della tribù Navajo e The Girl Who Made The Stars altro puzzle game di posizionamento tessere per uno o quattro giocatori basato su un mito africano sulla creazione della Via Lattea e delle stelle anche per questa settimana è tutto attendo i vostri commenti e consigli e vi do appuntamento alla prossima settimana ciao bene eccoci tornati grazie come sempre a Kogo per tutte le notizie che è riuscito a raccogliere e a darci che sono proprio fresche e fresche perché sono degli ultimi giorni però adesso torniamo quindi a parlare con il nostro il nostro ospite Silvano Sorrentino che come diceva giustamente anche il buon Luca visto che adesso abbiamo parlato un po' di tutti i vari concorsi tante informazioni sicuramente molto interessanti per chi è un autore provetto diciamo stavolta invece passiamo a quel lato di Silvano dove invece parliamo un attimo dei giochi che sicuramente ha già fatto uscire li abbiamo anche già provati tutti oltretutto grazie vecchiacci per averci mandato degli scatoloni con tutti i giochi di Silvano grazie di cui però il più famoso come diceva giustamente Luca è Deckscape sì allora io adesso faccio un'analisi mia personale di Deckscape e tu poi mi dici se ne la condividi allora ho giocato da poco all'ultimo uscito che è Churma contro Churma che è un escape room competitiva e quello che io ho sempre pensato di Deckscape è che dall'ora del test in poi ci sia sempre stata un po' una crescita mentre magari il primo sembrava veramente molto enigmistico io poi ho trovato una crescita i giochi sempre più legati idee sempre più innovative e dopo Fuga d'Alcatraz che mi è piaciuto veramente tanto e mi chiedevo ma non siamo arrivati forse un po' al top level cioè cosa cosa si può fare di meglio senza esagerare e questo tutta questa parte in cui mi fai complimenti anzi mi fai a Martino sono d'accordo intanto volevo dire questo no però questa un po' questa sensazione che avevo di queste escape room che è arrivata un po' al massimo livello ce l'ho avuta anche con le altre nel senso che adesso parlo di unlock piuttosto che di exit le ultime che ho giocato le ho trovate forse addirittura un po' forzate non so che ho giocato le catacombe della paura anche l'ultimo exit e l'ho trovato fin troppo difficile non mi sono divertito come quelli precedenti e quindi da qui devo dirti complimenti appunto per aver fatto ciurma contro ciurma che è un'idea che stravolge un po' il genere perché è un competitivo ci sono le squadre eccetera e la domanda è ciurma contro ciurma è nato in seguito proprio a un ragionamento simile al mio oppure no casuale non c'era niente di tutto questo a monte mi sono fatto io un film ciurma contro ciurma come tutti gli altri deck scape è nata da questo semplice ragionamento se avessimo fatto tre o quattro cinque o sette come sono adesso deck scape tutte identiche alla prima la prima era un po' più lo stampo delle escape room classiche e fra l'altro per escape room classiche parlo di quelle fisiche perché è una cosa che a causa dei tempi di uscita forse non tutti sanno è che in realtà noi quando abbiamo iniziato a lavorare su deck scape non sapevamo neanche che sarebbero uscite da lì a qualche mese le altre scatole della concorrenza gli exit gli unlock non esistevano abbiamo avuto tutti quanti la stessa idea contemporaneamente gli unici all'epoca che avevano avuto l'idea prima di noi non avevano fatto giochi in scatola piccoli giochi di carta avevano fatto giochi in scatole grosse tipo i giochi della think fun adesso sono arrivati anche in italia o il the werewolf experiment che è un gioco in una scatola molto grossa che poi è stato ripubblicato dalla Mattel e in entrambi i casi il format è quello di avere comunque la versione in piccolo di quello che tu trovi nelle stanze fisiche dell'escape room quindi ci trovi proprio dei puzzle fisici a volte anche di metallo di vettura le torce eccetera eccetera quindi scatole costose ma one shot l'idea che abbiamo avuto noi e immagino allo stesso tempo anche gli editor di Asmodee e di Cosmos era che se fai un gioco one shot però il gioco deve essere economico deve costare al massimo come un biglietto di un escape room fisica perché non ha senso che tu compri un gioco da tavolo che costa più di un escape room fisica e alla fine lo devi buttare ha senso per me magari che sono appassionato ma commercialmente non ha tantissimo senso in generale e quindi l'idea era quella di fare un gioco un escape room che fosse soltanto un gioco di carte ispirandoci appunto sia all'escape room fisica sia all'escape room digitali tutte quelle in flash o tutti i giochi del genere o i professor Layton tutte le cose che somigliavano a una versione con una storia di un escape room quindi effettivamente la prima d'escape in cui stavamo sperimentando sia il format sia questo modo di mettere gli enigmi era un po' più astratta di quelle che sono venute dopo per fare quelle dopo abbiamo iniziato innanzitutto per prima cosa a capire che sì ci si poteva mettere dentro con più convinzione una storia e piegare gli enigmi alla storia invece di fare più o meno il viceversa che quello che abbiamo fatto all'inizio con la prima e soprattutto per non scocciarci nemmeno noi autori ogni volta ci imponiamo dei paletti così serrati da farti venire in mente che sì vabbè questa cosa è impossibile da fare faccio un esempio nelle prime due escape room visto appunto che hanno uno stile un po' più classico la prima test time ma la seconda anche il fatto di Londra che è la prima in cui abbiamo messo un po' di storia ci sono molte enigmi con lucchetti numeri da ricomporre cose classiche delle escape room con quella che è uscita dopo ma soprattutto con il mistero di Eldorado che è uscito ancora dopo ci siamo messi in questo paletto facciamo un tema in cui non ci possono essere né scritte né tecnologie né niente lo ambientiamo in un mondo maia che abbiamo appena riscoperto dobbiamo trovare il modo di creare degli enigmi buttando via tutto quello che abbiamo fatto finora sostanzialmente quella è stata un po' la svolta perché da lì in poi ogni volta abbiamo cercato di pensare ok se noi non avessimo dei paletti probabilmente scriveremmo 20 volte la stessa cosa più ci mettiamo dei paletti incredibili più saremo costretti a pensare out of the box come si dice e a creare enigmi che in realtà piacciono anche a noi stessi perché i primi che si devono divertire con gli enigmi che scriviamo siamo proprio noi e il ciurma contro ciurma è partito proprio da questo concetto dico ok finora praticamente tutti quanti hanno fatto le escape room cooperative che succederebbe se avessi un escape room competitiva cioè innanzitutto come fa a funzionare fisicamente perché quella è la parte interessante di questo gioco cioè come fai a creare un gioco in cui due team stanno cooperando ma tu non devi copiare da quello che stanno facendo gli altri e da lì è nata questa idea e questo gioco e ogni volta appunto ci poniamo un paletti diversi vedendo cosa viene fuori quindi se tu mi chiedi riuscirete a farlo ancora una volta io ti dico sì l'abbiamo già fatto perché il ciclo di produzione del escape non finisce mai e in realtà le prossime due già sono sono in lavorazione poi non so se riusciremo a farlo per altre 50 volte no no beh sono contento sono contento perché no devo dire che mi è piaciuta ma appunto io avevo un po' questa sensazione che ormai si è arrivato a un punto che si è visto quasi tutto e quindi devo dire che ultimamente ho giocato diverse escape dove ho fatto fatica sempre per non fare torto ad altri visto che stiamo parlando di V per esempio fuga da manicomio per me è stata un po' faticosa perché erano veramente tanti tanti enigmi nella stessa scatola era un po' grosso forse come gioco anche era ambizioso però non l'ho giocato con quella leggerezza che invece vorrei riscontrare quando faccio un escape room cioè deve esserci la giusta tensione ma anche leggerezza invece lì mi sentivo un po' troppo costretto e faticoso non so se mi sono spiegato Matte tu cosa ne pensi? ma guarda è un po' il discorso che facevamo qualche puntata fa che a volte quella cosa del non rigiocare a volte ti condiziona perché appunto può essere la serata no può essere colpa tua ma come in realtà potrebbe essere colpa del gioco che in realtà non è nelle tue corde però è una sola chance di giocarlo e quindi arrivi alla fine e dici sì mi è piaciuto come giustamente facevi notare penso proprio tu alla fine mi è piaciuto perché sono in serata buona e quindi bene e se invece non mi piace è colpa mia è colpa del gioco è colpa della compagnia che avevo quella sera o quella giornata comunque questo è un argomento che abbiamo già discusso abbiamo già parlato in precedenza in un'altra puntata sulla rigiocabilità però invece tornando a Day Escape secondo me è un gioco assolutamente molto bilanciato nel senso che piace un po' a tutti perché ha tanti punti come dire ha tante sfaccettature non è semplicemente una risoluzione pratica matematica o quant'altro ha i diversi modi di risolvere i vari eventi i vari enigmi quindi c'è un enigma che lo risolvi in un modo eccetera giusto? chiaro in ogni Day Escape troverai degli enigmi un po' più logici alcuni un po' più più visuali alcuni un po' più di ragionamento alcuni un po' di pensiero laterale eccetera questo vuol dire che se da una parte ogni giocatore al tavolo avrà il suo momento di gloria sicuramente perché magari tu sei bravissimo con gli enigmi logici ma appena ti faccio vedere una cosa tipo scopri che c'è di strano in questa immagine perché c'è un pensiero laterale tu non ci arrivi ma ci arriva subito la tua ragazza quindi ognuno avrà un momento di gloria ma allo stesso tempo ognuno probabilmente avrà un enigma o più che non gli piace questo lo sperimento anch'io quando provo i giochi della concorrenza però il gioco funziona se comunque quando parli con gli altri ognuno ti dice non mi è piaciuto A e mi è piaciuto B o viceversa e quando li sovrapponi ti accorgi che in realtà a ognuno è piaciuto qualcosa e a ognuno non è piaciuto qualcos'altro quindi vuol dire che ok il gioco funziona ma a quel punto si entra nei gusti personali va bene interessante ti faccio un'ultima domanda sull'escape poi magari passiamo la tua top 5 visto che noi facciamo sempre una classifica in questo podcast facciamo la tua e l'ultima domanda sull'escape è quando è che secondo te un enigma è fatto male per esempio per me un enigma è fatto male quando lo posso risolvere solo guardando la soluzione nel senso che io potrei rimanere lì ore senza mai risolverlo invece leggo la soluzione vado avanti però non leggo la soluzione e dico si vabbè non ci sarei mai arrivato quindi nel senso l'utilizzo della soluzione come parte integrante dell'enigma secondo me secondo te se io leggo la soluzione e dico non ci sarei mai arrivato può darsi ancora che l'enigma sia buono ma se tu e tutti i tuoi amici e tutti i recensori dicono no quell'enigma non ci sarei mai arrivato allora quell'enigma sicuramente non funziona un altro problema quasi opposto ma al quale bisogna fare molta attenzione è invece enigmi in cui ci sembra essere un'altra soluzione che non è proprio validissima però tu quando lo dai dici ma potrebbe essere così e soprattutto in Nescape in cui appunto la risposta è libera e tu hai una sola chance di dare la risposta poi quando leggi la soluzione dici ok sì è legione la soluzione è quella però anche quello che avevo pensato io magari sarebbe potuto andare quindi la maggior parte del nostro lavoro durante i playtest è far provare il gioco a più persone possibili e appena vediamo che qualcuno inizia a pensare in una strada che potrebbe portare a una possibile soluzione che comunque non è giusta perché se poi ci ragioni con la persona dici sì va bene in effetti questa è un po' tirata per i capelli però anche le soluzioni tirate per i capelli non ci devono essere valide la soluzione deve essere qualcosa che tu ci pensi ci pensi ci pensi appena ce l'hai dici ah ah deve essere per forza questo perché tutto quanto si incastra in quel momento nella tua testa e sei sicuro già potresti anche neanche leggerla la soluzione sai già che è quella se riesci a fare questo l'enigma è perfetto ok non deve esserci ambiguità esattamente il primo punto la prima cosa è controllare peraltro la difficoltà quando crei un escape room da tavolo è che tu fai provare un prototipo all'inizio e dal prototipo alla versione finale poi c'è di mezzo tutta la fase di lavorazione il template delle carte le illustrazioni eccetera eccetera noi lavoriamo con persone bravissime in Da Vinci Matteo Brustenghi il nostro grafico che ha impaginato tutte quante le deck escape e Alberto Buntempio un illustratore che ha le disegnate tutte e siamo molto sincronizzati con loro ciò nonostante una volta che finisci di testare il prototipo e da quello crei la versione finale con la grafica definitiva in realtà devi testare di nuovo tutto da capo perché devi testare come funzionerà il gioco che le persone tirano fuori effettivamente dalla scatola per quanto noi il nostro primo prototipo lo cerchiamo di fare abbastanza funzionale comunque né io né Martino siamo degli illustratori ma per niente proprio ci adabbattiamo un po' prendendo immagini quella aggiustandola eccetera per fare qualcosa di funzionale ma comunque l'esperienza dei playtester che provano i nostri prototipi è molto diversa da quella dei playtester che provano il gioco finale certo chiaro e a volte dobbiamo tornare indietro aggiustare un'immagine di fare qualcosa a cambiare il testo eccetera perché sì e appunto la parte di game design è un po' laboriosa che c'è dopo l'invenzione che è la parte più gioiosa va bene allora dai allora partiamo con la tua top 5 partiamo dal numero 5 top 5 non ce l'ha la cicletta quello ci lavoriamo pian piano arriveremo anche ad avere lo stacchetto ce l'ho io o ce l'hai tu non mi ricordo la leggo io vai allora io mi avevate detto che c'era una top 5 io ho scritto i 5 giochi che mi sono venuti in mente per primi e poi mi sono reso conto che c'era un legame fra questi 5 giochi e lo scoprirete alla fine quindi una specie di puzzle anche questi ogni volta che parlo io c'è un puzzle il primo gioco che metto nella lista che è un gioco da vinci lo dico subito così faccio il disclaimer ma non sto facendo pubblicità perché comunque deriva da un gioco esistente di pubblico dominio e l'opus in tabula che è la versione da vinci con regole differenti di quello che nel pubblico dominio si conosce come werewolf o mafia eccetera ognuno ha le sue le sue regole ed è un gioco in cui non so se avete giocato sostanzialmente ogni giocatore viene dato un personaggio alcuni sono lupi mannari alcuni sono villici alcuni sono villici con poteri speciali e c'è un giocatore che fa il master e ogni round lui chiama le fasi della notte del giorno durante la notte tutti chiudono gli occhi e lui fa aprire gli occhi ad alcune persone gli fa fare delle cose tipo lupi mannari guardatevi mettetevi d'accordo sbranate qualcuno eccetera e poi di giorno i sovravvissuti parlano fra di loro per decidere chi è il lupo mannaro e mandano un lupo mannaro anzi un possibile lupo mannaro al logo cercando di farli fuori di farli fuori tutti questo è un a parte che il primo gioco che la da vinci non sono sicurissimo nella tempistica fra questo e bang comunque è il primo gioco su cui ha lavorato la da vinci nel 2001 e quindi sono vent'anni che prima come pretestere poi portandolo alle fiere poi giocando con gli amici eccetera eccetera credo che sia il gioco che ho giocato di più in generale nella vita è il motivo per cui sta in questa top 5 che nonostante ci abbia giocato boh centinaia forse sfiora le migliaia di volte non mi sono mai annoiato perché ha delle regole molto semplici a parte il master deve studiarsi qualcosa di più è l'unico che si deve studiare è il regolamento ma il regolamento di lupo in tabula è molto semplice ma per gli altri giocatori entri nel gioco sammendo pochissime cose ti dice ti do un personaggio ti dico più o meno che cosa fanno i vari personaggi poi ti dico che cosa fare durante il gioco quindi è un gioco in cui è facilissimo entrare è molto basato sulle dinamiche che si creano tra i giocatori più che sulla meccanica del gioco la meccanica è relativamente facile ma le dinamiche sono scoppiettanti e sempre diverse pensa che io di lupus in tabula ho una versione tematizzata sul paese dove vado in campagna e quindi ci sono l'avevamo fatta noi quindi ho le carte con i personaggi del paese e quindi ognuno fa cose diverse e il problema che io quando gioco in famiglia cioè mia moglie mi uccide sempre subito perché dice è lui sicuro lupo è lui sicuro lupus sempre e quindi poi alla fine non mi piace tanto per quello mi uccidono sempre al primo turno comunque anche se anche se sono già morto mi uccide comunque mia moglie mi sputano pure sulla tomba fanno di tutto quindi sì però no mi piace questo lucere spesso anche a me chiaramente di essere fatto fuori ma in lupus in tabula tu se sei fatto fuori non esci dal gioco rimani in vita come spettro non puoi parlare ma ascolti la discussione e puoi votare quindi comunque non vieni mai eliminato fino alla fine e puoi vincere anche se sei morto se la tua squadra vince quindi la player elimination l'abbiamo tolta o almeno mitigata che è uno dei motivi per cui il gioco mi piace perché avendomi ammazzato un terzo delle volte al primo turno poi non ci avrei mai più potuto giocare se fossi stato fatto fuori e basta il gioco continua ed è interessante anzi quasi da un certo punto di vista ti toglie un po' di ansia se ti fanno fuori subito perché puoi continuare a seguire il gioco ma non sarai mai più accusato e comunque puoi sempre vincere va bene ok quindi passiamo al quarto posto quarto posto anche se puoi metterli in effettivi in ordine numerico è un po' difficile però ci siamo capiti sono sicuro solo sul primo posto che vi stupirà il posto numero uno vi stupirà ve li faccio anche crei già dell'hype delle attese verso il primo posto ma adesso siamo ancora al quarto quindi so che è un autore che al giorno d'oggi non va più tanto per la maggiore ma io avrò sempre fra i miei preferiti il prossimo gioco di Rainer Nizia perché Rainer Nizia ha proprio uno stile di scrittura di giochi che a me piace moltissimo e ho scoperto man mano giocando negli anni che è questo che mi piace del suo stile ovvero che come dicevo prima lui crea meccaniche con poche regole ma crea tante dinamiche anche nascoste su quelle meccaniche ovvero tu devi capire man mano come utilizzare queste regole a tuo favore per creare situazioni sempre piuttosto complesse nonostante le regole in realtà siano veramente poche quindi ha due vantaggi il primo che avendo relativamente poche regole e avendo io mille giochi nella libreria se tiro fuori un gioco d'inizio più o meno me lo ricordo senza doverlo ristudiare ogni volta ma soprattutto se lo ricordano anche i miei amici che sono meno giocatori di me quindi vuol dire che qualcosa che comunque resta e che le regole che scrive sono sempre chiare e dico ben ambientate anche se molti dicono che alcuni giochi d'inizio tutti i primi sono molto astratti ma in realtà quasi sempre i regolamenti dei suoi giochi sono qualcosa che tu riesci a ricollegare al tema magari un po' posticcio che ci ha messo sopra ma hai riuscito comunque a legarlo alle regole lo si dà sempre per non dico spacciato ma per uno che potrebbe farmi compagnia qui a vecchiacci nell'altra stanza e poi ogni tanto se ne viene fuori con qualcosa di nuovo da Eldorado a My City che ammetto non è il mio ideale di gioco però mi è piaciuta molto l'idea che ha creato un gioco che è un puzzle ma è anche legacy ma è legacy in una maniera tutta sua ma giusto per curiosità qual è il tuo gioco preferito di Knizia al momento cioè dovessi dire vabbè guarda me ne devo portare proprio via uno solo perché sta bruciando tutta la tua ludoteca ne riesce a salvare uno di Knizia qual è? Totopoli guarda mi stanno venendo in mente in questo momento o Modern Art o Samurai non saprei scegliere fra i due se penso proprio ai classici ok ok forse Samurai perché Modern Art per essere giocato bene ha bisogno di giocatori che giocano bene essendo uno un gioco di asta puro in cui non ci sono di un po' sulle aste quindi rischi di giocare male per colpa dei tre che sono finiti con te sull'isola deserta mentre Samurai Dai e Dai e riuscirai a insegnare anche quello sono legato un po' più ai giochi più vecchi d'inizio banalmente perché quando ero un po' più giovane avevo molto più tempo di vedere gli amici che magari non ci avevano figli o che magari non lavoravano lontano eccetera e quindi facevamo molte più serate ludiche e quindi alcuni di questi giochi li ho giocati molti più spesso mi sono rimasti più nel cuore quindi fra i giochi che amo all'inizio ci sono quelli un po' più anziani ma quello che amero di più sarà il prossimo perché ogni volta che ne esce uno vado a vedere che cosa stavolta guarda io ho un piccolo aneddoto schinizia io penso che il suo primo gioco che ho acquistato è stato Tigre o Frate versione vecchia della Mayfair con i componenti in legno ero a Modena e c'era lui uno dei primi Modena Play era ospite allora sono andato a cercarlo in tutti i corridoi possibili immaginabili fino a quando effettivamente l'ho trovato e mi ha anche autografato la scatola quindi è una di quelle scatole che fondamentalmente non darò mai via già è un bel gioco in più oppure la scatola con tanto di dedica ciao però non c'era mai di casa fondamentalmente io ora ti dico una cosa giusto per farmi invidiare io a casa ho un prototipo di inizio ah perché la Da Vinci ha applicato un suo gioco anni fa Figaro e quindi abbiamo ancora il prototipo che ci diede al momento in cui ne prendemmo i diritti e quando gli chiedemmo se lo rivoleva indietro ho fatto no 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 ok non serve sapendo che io ero il più kniziano della Da Vinci è arrivato in dono a me e poi l'avete bocciato no no l'abbiamo preso no e aggiungo che a Lucca Games del 2007 quindi sono 15 anni fa era stata organizzata una mostra sui giochi di Rainer Nizia e il tema della mostra era che all'epoca c'erano n categorie tipo una quarantina di categorie di Borgin Geek e lui aveva scritto almeno un gioco per ogni categoria e l'organizzatore della mostra nonché i giochi in mostra erano i miei ah ok quindi a dimostrare che sono uno niziano della prima ora però l'hai messo solo al quarto posto vorrei sapere cosa hai messo al terzo ok al terzo ho messo come rappresentante di un'intera categoria di giochi The Mind ecco eccolo là lo sapevo ci sbatteva non piace The Crew figurati se ti piace The Mind è stato influenzato da da vecchiacci perché mi piace The Mind due motivi il primo è simile a quello per cui mi sono piaciuti gli altri due il quarto e il quinto posto ovvero The Mind ha così poche regole che sembra quasi non avercene nemmeno le regole e il secondo è che nonostante sembri quasi non avere regole io riesco a intravedere la montagna di game design che c'è alle spalle di questo gioco perché uno di quei giochi che uno dopo che lo vede dice vabbè non ci voleva niente lo potevo fare pure io ma nessuno aveva mai neanche pensato qualcosa di minimamente simile a quello che è The Mind di solito quando uno va a fare quel pensiero proprio quel ah vabbè che scemo potevo farlo anch'io vuol dire che fondamentalmente è un gioco geniale esatto sembra sai quei non so quei jingle di quei riff di guitar io quando ho giocato The Mind non ho pensato a che lo potevo fare anch'io cioè o almeno non solo ma proprio mi sono annoiato da morire io non mi sono annoiato perché ti ho detto una delle cose che cerco ah due cose che cercono i giochi e questo gioco c'era tutte il primo che abbia pochissime semplicissime regole creando tante dinamiche interessanti e il secondo che ci sia anche una specie di puzzle nascosto se possibile questo gioco le ha tutte quindi per me 10 su 10 non sono ancora riuscito a finire l'ultimo livello ci ho giocato spesso con mia moglie durante il lockdown sono arrivato a una carta dalla fine ci siamo mangiati le mani però sì non dico che ci giocherò a vita non dico che non porto su di sola deserta però è veramente fra le esperienze singole più interessanti che ho fatto ed è anche un gioco simbolo di tutti quei giochi che hanno un'idea nuova originale magari ti scocceranno dopo un po' però li devi provare perché sono diversi da tutto il resto te ne dico un altro Skull non mi ricordo di che Skull non mi ricordo di che edito credo che sia francese è la versione che ho io che è un gioco di scommesse stranissimo che c'ha tipo i sottobicchieri della birra so se lo conosci e devi fare dei ragionamenti veramente strani che quando tu lo spieghi dici ma come fa a funzionare questo gioco quando tu giochi ti accorgi che è diverso da tutto il resto questi giochi piccoli che sono diversi da tutto il resto sono le cose che io vorrei fare ma proprio uno di quelli che a me vengono in mente è The Game The Game è un altro che tu dici vabbè ma cosa ci voleva non ci vuole niente un mazzo di carte che va da 2 a 99 e devo mettere in ordine ma che problema c'è in realtà è complicatissimo da un certo punto di vista perché sono più le sconfitte che le vittorie quelle che vai poi a segnare nelle statistiche ed è un gioco che puoi giocare veramente con chiunque io l'ho fatto giocare anche ai miei suoceri e infatti questo è un altro requisito per poterlo poi dare alla sala giochi di vecchiacci ricordiamolo però è un altro di quei giochi che effettivamente tu dici vabbè ma cosa ci vuole potevo farlo anche io ci vogliono 60 anni ci vogliono 60 anni per giocarci The Game Design no 60 anni d'età va bene e allora al secondo posto quindi superiamo queste scatolette piccoline ma dal loro contenuto geniale al secondo posto nonostante io debba fare un po' per lavoro ma in realtà è una cosa che mi piace tantissimo fare come dicevo prima se mi metti davanti l'ultima escape room che è uscita da qualsiasi parte del mondo io sono contento come un bambino non te la puoi cavare così devi farci un nome e cognome anzi facciamo così dici la tua deck preferita e poi una di concorrenza preferita allora lo posso fare tu pensi che non lo faccia me lo faccio diciamo di exit mi tengo per la fine perché la mia risposta è un po' più complicata ovviamente mi tengo per exit quello sull'oddente express non mi ricordo il nome preciso vedi che qua è la mia preferita la mia preferita di tutte ma è è troppo bella quella e ci potevi arrivare anche perché lì c'è il puzzle lì c'è anche il il deduttivo investigativo eccetera quindi c'è un sacco di cose di quelle che mi piacciono è a tutto quella di unlock mi piace molto scusate se non mi ricordo i nomi anche perché unlock sono tre alla volta quindi non mi ricordo manco il nome con cui l'ho comprata uno piuttosto recente in cui ci sono le le spie e devi scoprire chi fa queste spie è una talpa sì e c'è un meccanismo brillante per cui man mano elimini una carta con la spia risolvendo l'enigma esatto cioè man mano salvi una carta con la spia finché non ti rimane quello che in realtà era effettivamente la talpa esatto mi è piaciuto molto e aveva dei begli enigmi anche se ognuna di The Escape Room in commercio incluso The Escape ha i suoi pro e i suoi contro e io potete vedere nella mia guida che racchiude tutte sul blog giochi sul nostro tavolo bravissimo non so se siamo d'accordo sui pro e i suoi contro ma io di unlock per esempio non sempre apprezzo l'uso della app perché sono un po' più analogico preferirei avere un gioco soltanto di carte sono d'accordo a volte a volte è un po' esagerata o meglio se l'app ti fa qualche effetto tipo di realtà aumentata ma usando le carte come in quell'avventura che dicevo delle spie allora è molto bello non spoilerò cosa succede ma ci sono dei momenti in cui l'app interagisce con le carte ma se l'app ti fa a un certo punto un piccolo videogioco io mi chiedo ma perché sto giocando a questo e non sto giocando a una escape room in flash che trovo anche gratis non spendevo neanche 30 euro però d'altro canto quando gli enigmi di unlock funzionano o quando gli enigmi di exit funzionano o quando eccetera eccetera le posso nominare tutte alla fine sono sempre contento di exit se dobbiamo dire la cosa che non mi piace è il fatto che abbiano un unico meccanismo di input che è la rotella dei codici e quindi siano tenuti a fare enigmi in cui la risoluzione sia un numero cosa che unlock ogni tanto riesce più o meno a districare con dei meccanismi laterali e quindi ti ritrovi sempre legato nel mondo delle escape room classiche con lucchetti numeri codici eccetera e un pochino non riescono a uscire da questo però anche lì quando funziona funziona molto bene per parcondicio dico che il difetto che alcuni dicono di Dexcape è il fatto che tu quando fai un enigma hai un'unica chance di dare la soluzione perché la soluzione la scopri subito sul retro della carta e quindi se l'enigma è scritto bene come speriamo sia sempre comunque tu sai che la soluzione è quella giusta come dicevamo prima ti devi fare haha e devi già sapere che quando girerai leggerai quella ma ti puoi nervosire quando tu non trovi quella giusta e dici ah però se ci avessi pensato ancora ci sarei arrivato questo è ognuno dei tre giochi chiaramente ha dei motivi di design per fare queste scelte e non puoi avere soltanto i pregi e soltanto i difetti dipende da che tipo di esperienza cerchi l'esperienza di desk è fatta apposta per essere la più party game possibile ci giochi con gli amici ti diverti non ti blocchi mai vai sempre avanti non stai lì a spippettare con le app eccetera eccetera e sai che comunque fra un'ora o poco più l'avventura l'avrai completata non ti puoi neanche bloccare non c'è mai un timer che ti dice il gioco è finito al massimo la completerai col punteggio peggiore se ci hai messo troppo tempo e quindi qual è la deck scape che preferisci il problema è come faccio io a preferire una deck scape visto che io stesso sono l'unica anzi una delle due persone al mondo che non ci posso giocare vabbè però dal punto di vista diciamo di sviluppo quella che ti ha dato più soddisfazioni allora da questo punto di vista io so quella di Martino è dietro il sipario lo so con certezza e quella mia in questo momento è ciurma contro ciurma per il motivo che abbiamo dovuto inventarci di nuovo contemporaneamente sia un tipo di gioco come farlo funzionare in competitivo sia degli enigmi di tipo nuovo che funzionino con questo tipo di gioco sia una meccanica nuova che non c'è nessun'altra escape in questo momento l'arrivi visto ci sono due o tre micro giochi interrompono il flusso di puzzle e ti fanno fare come una piccola partita ad un altro gioco e poi torni nel flusso di puzzle per cercare di creare più varietà possibile quindi lì ci abbiamo messo veramente un sacco di idee anche se in un gioco così piccolo magari non si notano ma c'è veramente un sacco di design applicato a quel gioco Martino non lo invitiamolo perché di deckskip pensa che dietro sipario è la mia preferita preferita? la mia preferita quindi per me e te non abbiamo manco un gioco in comune in libreria perché non ti piace The Crew non ti piace The Mind non ti piace dietro il sipario mamma mia no io ce l'ho tutte le deckskip ma quella che mi è piaciuta meno è dietro il sipario guarda faccio una mossa contraproducente ti chiedo come mai? forse il tema non mi è piaciuto tanto nel senso che non so giocare con le carte erano tutti tutti e comunque enigmi giustamente legati alla prestigilizzazione e e boh forse erano boh li ho trovati un po' più forse più scontati non lo so poi ne ripeto è la mia impressione del tutto personale penso che mi sono piaciute tutte se devo scegliere quella che mi è piaciuta di meno è stata quella sì no scusa ho approfittato perché mi interessa sempre sapere il feedback anche a costo di interrompere un podcast arriviamo al posto numero uno vai con il numero uno guarda il numero uno è l'unico che so sempre lo so così tanto che credo che sia l'unico gioco che c'è a dieci sul mio board game geek ed è il go vuoi giocato a go? io ho giocato un po' a go sì mi ero mi ero appassionato un po' complice anche il fatto che quando mi ero appassionato era l'ultimo periodo in cui stavo a Piacenza perché stavo poi per trasferirmi qua a Genova quindi avevo coinvolto un carissimo amico proprio uno dei miei migliori amici sempre proprio quegli amici delle superiori che poi ti porti dietro tipo per tutta la vita quindi avevamo lo avevamo visto a a Lucca c'era uno stand apposta penso proprio del club di Go ci avevano dato un po' di informazioni giusto per indirizzarci poi avevamo trovato un ragazzo che stava a pochissima distanza da noi e quindi ci trovavamo tipo una volta ogni settimana in un bar o meglio in un pub e quindi ci aveva un pochino aiutato a muovere i primi passi poi quando invece mi sono trasferito a Genova di contro ho comprato un Go un Go Ban e quindi su di tutto ma poi ho praticamente lasciato perdere perché ho visto che mia moglie non è nonostante abbia letto anche lei il manga i caro e le ha pure piaciuto tanto anche ma ha un po' questa diciamo freno riguardo ai giochi astratti cioè lei non gioca a scacchi non gioca a dama non gioca a dive l'unico astratto che le è piaciuto è uno della serie dei giochi del progetto GIF che è Yinsh che è quello dell'anello che lanci e quello è l'unico che le è piaciuto un sacco infatti ci abbiamo fatto diverse partite ma lei ha un po' questa questo blocco sugli astratti e infatti è stato un periodo in cui dicevo ma no è il gioco tipo uno dei giochi più belli del mondo è in giro da migliaia di anni è finissimo cioè è pura strategia pura tattica di un uno contro uno no va bene allora niente e quindi ho ancora comunque a casa la scatola sperando che prima o poi quando le figlie crescono magari si si interessino e allora ma li fanno un po' ripartire la la passione diciamo per qualcuno che non gioca molti astratti non è il gioco ideale per iniziare in realtà eh lo so però ci si può giocare online io ci ho giocato tantissimo anni fa sul KGS si chiamava Kiseido Go Server non so se esiste ancora ma credo che esistano altri altri sì esatto ci sono anche banalmente le app sul sono i cavalli sì sì quasi infatti si chiamava Go e l'abbreviazione si chiamava Gogopoli sono solo bianchi o neri però allora te lo approvo al 100% anche se mi sembra che mi stiate fregando no no sono solo bianchi e neri comunque alla fine riguardando la mia stessa lista mi sono reso conto che questi giochi nonostante sembrino diversi fra loro l'opuso in tavola il gioco in it inizia the mind escape room il go hanno qualcosa in comune che è qualcosa che non solo io cerco come giocatore ma è qualcosa che cerco anche di creare come autore quello giochi che hanno poche regole o addirittura niente regole come quello che cerchiamo di fare in the escape o in detective e che però creano esperienze interessanti il go vabbè è un caso a parte perché c'ha poche regole ma è difficilissimo entrare nel gioco nelle prime partite veramente io le prime dieci partite alla fine tu ti fermi e dici ma chi ha vinto sta insegnando il gioco dice veramente io ho vinto 40 mostre fa ma stavo continuando giusto per farti capire come si gioca esatto ok bene così però il go è bellissimo perché al contrario di altri giochi ci dico gli scacchi solo perché sono i giochi che tutti conoscono devi studiare pochissimo i collegamenti mentali che ti servono per creare a go te li crei tu stesso man mano che inizi a giocare è come se ti crei una rete neurale apposta per giocare a questo gioco qui a un certo punto ti hai delle pedine che si collegano fra di loro ma non ti devi ricordare niente a memoria non ci gioco da tanto ci avevo giocato un anno fa probabilmente l'ultima volta però per la difficoltà di organizzarsi avevo fatto delle partite online però se lo riprendo adesso penso di più o meno risalire al livello in cui ero che non era tanto era un 14Q quindi una cosa non sia europeo un bambino asiatico mi fa fuori in tempo zero oltretutto in Italia ci puoi stare fai qualche partita interessante tra l'altro c'è anche il sistema di handicap per cui giocatori con bravude diverse possono comunque partecipare eccetera è veramente elegante in più ti dà anche una lezione di vita asiatica a te europeo perché l'errore tipico che facciamo noi europei noi italiani in particolare quando iniziamo a giocare al Go è pensare ah sì ho capito è come l'hotello devo mangiare le pedine avversarie e ti distruggono a un certo punto tu capisci che lo scopo del Go non è distruggere l'avversario ma vivere tu in santa pace eh sì più o meno sì quando fai questo switch mentale inizi più o meno a capire come si deve giocare e da lì inizi a crearti la tua personale strategia di gioco ed è bello l'insegnamento che dà smettila di cercare di farne il male all'avversario inizia a pensare a come vivere tranquillo tu poi se lui ti fa male ti difendi ma non è necessario farlo sì nonostante spesso appunto soprattutto i giochi uno contro uno sono portati proprio a un preconcetto di guerra fondamentalmente cioè vince il migliore tra di noi ovvero quello che non quello che appunto come dici giustamente tu si vive meglio si è preparato per coltivare il suo articello in modo tale che nessuno gli può venire a rompere le scatole ma il primo che riesce a sfondare l'esercito avversario e andare dritto verso il re o la regina e quindi devastare i piani avversari in realtà il go è effettivamente un concetto pressoché opposto ed è bellissimo in realtà quando riesci a effettivamente a mettere in pratica quei due perché non è che sono mille insegnamenti proprio anche pratici del ok ma se quindi chiudo qui dentro ho chiuso questo X questo gruppetto di pedine avversarie ho ah ok ma allora adesso queste spettacolo cioè sono grandi emozioni sono piccole piccole cose che però provate le prime volte ti dici ah che figo poi ovviamente ci sarà durante la partita modo di pentirsi da come ti stai eccitando per questo io cioè mi stavo fidando ma da come descrivi queste tue emozioni lo metto nei giochi da portare a da vecchiarci ok perché capisco questo tuo entusiasmo credo che mi sembra esagerato beh pensa che ci sono addirittura hai citato mi sembra esagerato pensa che ci sono anche dei cioè Goban che costano lira di dio cura delle pedine assurde altro che materiali pimpati da kickstarter qua andiamo su altro livello proprio si tra l'altro se provi a giocare a go con un giapponese o un cinese fai delle figuracce perché loro hanno imparato prima da bambini la mossa giusta per mettere la pietra sul gobante eccetera eccetera e tu lì come se stessi tipo mangiandogli spaghetti con un cucchiaio e una faccia facendo queste mosse elegantissime gioco online è meglio almeno non fai questo va bene ragazzi quindi a questo punto io vi direi andate a giocare a go e fate delle figuracce con degli asiatici la loro faccia sarà impagabile ovvero non mostrerà niente di nessuna emozione ma voi saprete nel vostro nel vostro intimo che avete fatto veramente del figuracce pessimo va bene allora direi ringraziamo silvano che ha messo anche nella sua top 5 due giochi della vecchiacci come product placement e niente grazie grazie di essere stato con noi silvano per questa chiacchierata e niente voi continuate a seguirci sui giochi sul nostro podcast su youtube sui vari canali di podcast che troverete tutti elencati sotto nel post entrate nel nostro gruppo telegram giochi sul nostro podcast dove potremo chiacchierare potrete anche decidere delle domande da fare i nostri ospiti in tal proposito mi arriva dal gruppo tanti complimenti perché le decks che le adoriamo da parte di figlio di griffin e niente grazie per essere stati con noi una buona serata da luca ciglione da matte e da silvano grazie e buona serata a tutti ciao 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 è uscito così giochi sul nostro podcast il podcast ludico avete ascoltato giochi sul nostro podcast del podcast